Finalmente abbiamo Arlecchino, è stata annunciata nel post ufficiale Mioio che vedete qui davanti, mezzaluna dei presagi nefasti ed è bellissima, ce l'aspettavamo per oggi che sarebbe stato il classico momento dove vengono rilasciate le informazioni ufficiali di totale dei banner e arriverà il video oggi pomeriggio e ci aspettavamo l'uscita di un personaggio 5 stelle importante. Facendo due calcole, tirando un po' le somme, pensavamo sarebbe stata Arlecchino e infatti eccola in tutta la sua splendore in questa posa che è meravigliosa, con questo sguardo un po' a tre quarti che ti guarda un po' giudicandoti, un po' con quell'istinto omicida che la caratterizza, con un innesco di colori che secondo me è bellissimo. Bianco, nero, tendente con sfumature al grigio scuro e questo rosso sangue che va a finalizzarsi all'interno della sua Vision Piro. È un personaggio di Vision Piro ragazzi, sarà un 5 stelle chiaramente e però non è ancora ufficiale quale arma potrebbe avere. Io sono sempre dell'idea che spero non sia una lancia perché, non lo so, ora magari col calcolo anche delle armi non è più così però un po' di tempo fa usciva praticamente tutto lancia e cosa aveva un po' stuccato. Però, un personaggio che adoro sia per la capigliatura, che la trovo veramente meravigliosa, sia per l'outfit e poi per quello che abbiamo visto anche nel suo carattere, che rispecchia sempre un contrasto, no? Cioè qua noi la vediamo così, che fa paura, cioè una che è determinata, al quale non devi rompere le scatole, devi stare attento. Poi la vedi nella storia e nel suo ambito del focolare familiare o nei suoi affari, sembra una persona affabile, una persona comprensiva e molto dedita e che si dedica ai suoi figli, no? E in quel caso ha i tre fratelli. Quindi ha questa dualità che la rende forse un po' più umana, anche magari con la storia che abbiamo visto con Furina, eccetera, che potrebbe essere sfruttato, ed è probabilmente a livello narrativo sarà così, anche per poi poterla fare entrare a pie pari all'interno del nostro gruppo, nonché comunque anche i suoi fini, i suoi obiettivi, come vi ricordate, erano quelli della salvezza di Fontaine e quindi prosegue, persegue degli obiettivi comuni con quelli che erano stati comunque il gruppo. Quindi ha sempre questo duo che a me piace tanto, questo conflitto interiore. Ma andiamo a vedere meglio che cosa dicono riguardo a lei. Arlecchino, mezzaluna dei presagi nefasti, capo della casa del focolare. Arlecchino ricorda ancora quella notte in cui diventò una messaggera. Mentre saliva una scalinata e attraversava un lungo corridoio, dalla finestra non si vedeva altro che un'immensa distesa di neve e ghiaccio. E quindi sappiamo che siamo orientati nella parte, nell'ultima zona che verrà rilasciata, quella innevata snaznaia, io che lo pronuncio sempre male. Il vento gelido urlava fragorosamente, a volte come una risata gioiosa, a volte come un triste addio. Un vento che fa scherzi e nella nostra mente vengono percepiti in modi diversi. Arlecchino tornò in sé e i suoni dei suoi ricordi si confusero con il vucio della realtà. Il focolare ardeva luminoso e un dolce calore riempiva l'intera stanza. Le fiamme tingevano di rosso i volti dei bambini con i loro sorrisi puri e innocenti. Entrando in quel momento un viaggiatore ignaro avrebbe potuto scambiarli per una famiglia ordinaria, ma felice. Arlecchino sollevò la tazza di tè fumante e ne beve un sorso. In quel preciso momento suonò il campanello, soffocando ogni parola e risata. Quindi con questo aspetto già determinano il silence, disciplina. Le fiamme tremolarono e tra un gioco di luci e ombre tutti assunsero un'espressione solenne. Arlecchino rimise a posto la tazza, si alzò e con gran calma fece alcuni nomi. Chapele, tu lavorerai insieme a Linei per reperire informazioni. False, tu rimarai a casa con Philol. Sì, padre, risposero all'unisono e senza esitazione. Pocodoco il fuoco si spense e nella casa regnava il silenzio più totale. La luce della luna attraversava le tende illuminando la tazza di tè che andava raffreddandosi. È una descrizione meravigliosa di come ci sia di nuovo questa dualità, di quando lei ha questo aspetto di calore, di tutti insieme, in una sensazione di calore attorno al fuoco, in un ambiente ostile che è quello della gelida tundra, del fuori che è freddo. E del momento solenne in cui però quando parlo io, tutti in silenzio, obbedite e dite. Quindi il cambio di espressione, il cambio di atmosfera è quello che ci dà anche da un punto di vista di immagini. Quindi è una roba che io sto particolarmente adorando. L'altra parte invece, che abbiamo, questa è la sua silhouette completa, comunque ripeto, a me piace tanto anche per questo dualismo di questo abito che è anche prettamente maschile con i pantaloni, anche per la dualità del padre e il fatto che comunque Arlecchino ricopra questo ruolo autoritario all'interno della famiglia, come viene stereotipato nei tempi che furono. Il suo titolo è Mezzaluna dei presagi nefasti, è il capo della casa del focolare, la sua visione è Piro e la sua costellazione è il Purgatorio Inis Purgatorius, quindi il Purgatorio infuocato, di fuoco. Il destino non concede favori a nessuno, solo coloro che vi si oppongono con ogni fibra del proprio essere sono degni di affrontarlo. Piero, il giullare. Questo probabilmente è riferimento a lei e al fatto di come lei sia diventata la nuova Fantesca, perché sappiamo che lei ha combattuto per essere quello che è e ha assassinato il precedente detentore di questo titolo. E quindi lui ne parla come il destino non è una roba che concede favori, cioè se tu non ti apponi al tuo destino e non ti prendi quello che vuoi, non sei degno di affrontare la propria vita. E questo lo fa probabilmente riferendosi a un Arlecchino che il proprio destino l'ha preso e l'ha preso di punta. Cioè è una Fantesca che invece si è opposta e non è stata ai giochi, non è stata sottoposta ai maneggi che erano stati dedicati e che erano stati creati per lei. Spero di non aver detto in precisioni, spero di essere stato Ligio. A me piace da morire. A me piace da morire. La grande paura è che, va bene, la grande paura. Ci sono due aspetti che sono in questo momento cardine all'interno un po' della community. Uno è l'aspetto delle mani, che ancora non ne avevo parlato ma che stiamo cercando di capire perché se pensiamo a Cabaret e se pensiamo a, non a Calaverto scusate, se pensiamo a Caterpillar e al fatto che abbia quelle mani lì, in quel modo lì, insomma ci sono dei riferimenti e delle teorie per il quale lei potrebbe avere una malattia, potrebbe avere una maledizione, potrebbe essere non dei, non sono dei guanti. Cioè è qualcosa proprio inerente alle proprie braccia con queste unghie e ricordano molto l'aspetto degli Yirishul. Quindi c'è questa cosa di mistero anche che è molto interessante riguardo a lei e l'altra cosa che probabilmente si domanda molto alla community è il suo utilizzo. Chiaramente un personaggio di questo tipo, con una carattura del genere, essendo un artbringer ed essendo un personaggio che ha un ruolo importante, nonostante un appeal incredibile, se venisse fuori magari in modo insoddisfacente per quelli che sono gli output e il gameplay da parte della community, quindi purtroppo si creerebbe un po' una situazione sgradevole di insoddisfazione in gran parte della community. In questo momento c'è un po' di paura, poi lo so che ci sono i leak, ci sono le robe, quindi bla bla bla, c'è gente che continua a dire no vai stai tranquillo, io chiaramente non li seguo, non lo so. Mi auguro, almeno il mio augurio, non voglio che sia sbroccata rota anche se il filo e il trend che sta seguendo Genshin in Fontaine è quello di personaggi che sono DPS devastanti, che è una curva che non si sta arrestando. Quello che mi auguro è che sia almeno divertente e con delle meccaniche nuove, almeno chi mi possa far dire cazzo sì la pullo perché mi piace da morire e anche perché avrà un sistema di combattimento e delle interazioni con altri personaggi che mi divertono molto, anche perché in Genshin Impact al momento è quello che io sto cercando perché endgame e roba del genere ormai rimane ben poco. Io faccio un aggiornamento perché non vorrei che avessero rilasciato dell'altro, no attualmente è stato pubblicato soltanto la parte di Arlecchino. Io vorrei sapere che cosa ne pensate voi, se vi piace, non vi piace, se ve l'aspettavate meglio, se ve l'aspettavate peggio. Io sto preparando anche il video dell'analisi del banner che arriverà oggi pomeriggio, ora chiaramente c'è prima Arlecchino perché è più sensazionale, ma faremo tutto il ripasso delle build, Armin bene, non bene, banner buoni, non buoni, spoiler, sono veramente banner sacrificali, ma ne parleremo nel prossimo video, quindi vi invito ad andarlo a vedere, penso che uscirà per le 5, per le 6. Per questo signori io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e noi ci vediamo al prossimo video. Un'altra testa è top zerga, ciao belli! Ciao!